io ho detto al mondo del nigero ho detto che il dolire è che li abbiamo a vivere il bioneseventino l'ho fatto? si se non è l'altro che io sono a vivere perché io lascio a vivere il bionese di acqua non io vado a vivere il bioneseventino e che li abbiamo a vivere il bioneseventino non è un po' ma non possiamo non possiamo non possiamo non è un po' non ho mai visto non ho mai visto non ho mai visto non ho mai visto ah 17b 17b e lei è molto relazionante non ho mai visto e lei è che città non ho mai visto ma non ho mai visto non ho mai visto non ho mai visto non ho tanto maggiore non ho mai visto e lei è un po' and we together up to that point you should know people you can't do it we can't do it but we all have to do it we can't do it no lei fregivano non si erasta facendo un don Johannes divorcio non si non hani si non ci sembra non ci sembra io stavo No, non ci sono i ragazzi iniziali, non ci sono dei messi da l'arruzione. Non ci sono i raggi, non ci sono i raggi. Con questo è il Down, ma non ci sono i raggiunti di fare così. Beh, non ci sono i raggi. Non ci sono i raggi, ma non ci sono i raggi. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. ha 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 ha. La mia diretta è? E' di chi è? D'asci a voi, come se sono andati? A questo mi cio è a squaredo 100 milioni di villa e così a 45 milioni di villa che è lei? E' di chi è? Non come gli uomini come avano, ha, 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 ha? Ha, 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 ha? Ha, 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 ha! verrà un rametto vediamo su questo non è il tervevo ma stella questo è il tervevo il tervevo visto questo non è il tervevo visto ma il terno al suo吃 il tervevo visto a te a nasio me è ancora con l'agia a l'agia rita mafia chara mi ha r brasco eh eh mi ha riuscito l'arga di ho lo vaccato leggerete a te di a giri dato e a te nere ora la tua modua mi io nico mi e a te a comona la muana mia mucina e a giri dato ahahahah ahahahah ahahahahah ahahahahahah ma se si vanno c'è il mio rio ma quando hai happy io a c'è uno che non c'è ma era quello che mi rispira il mio mare è tutto però non ho proprio il tuo&e e quando hai fatto il mio miglioro Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno, 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 non c'è nessuno.